Musica Mirko Antonucci classe 99 esterno d'attacco della Roma Può giovere indifferentemente sia a destra che a sinistra ma è proprio quest'ultima la posizione che predivige 2. Gli Scudetti che ha vinto in giallo rosso prima con i giovanissimi nazionali poi con gli allievi da sotto età contro l'anno Un anno fa proprio con Federico Coppite agli allenatori Entrambi i titoli che sono targati proprio con questo allenatore In questa stagione ha messo a segno 11 gol in 30 gare disputate tra regolarsissimo allievi nazionali A e B 3 gare in primavera e le finali allievi nazionali dove è uscito in semifinale con la sua Roma contro l'Inter Suo il gol contro la Fiorentina nel 3 a 0 che ha portato la Roma di Toti a B Proprio contro i Roma Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.